Non si presenta in tribunale e si giustifica con un certificato medico. La showgirl Barbara Guerra, chiamata a testimoniare nell'udienza del processo in corso a Bari per il presunto giro di escort organizzato nelle residenze dell'ex cavaliere Berlusconi dall'imprenditore Giampaolo Tarantini, dà forfè e non parla davanti ai giudici. La sua era una testimonianza molto attesa, soprattutto dopo che il suo nome è comparso nell'inchiesta milanese denominata Rubi Ter. Secondo l'accusa, avrebbe ricevuto come liquidazione da Berlusconi una villa da un milione di euro a Bernareggio, in provincia di Monza. Berlusconi, nel procedimento milanese, è indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto è che abbia comprato il silenzio delle ragazze, chiamate a testimoniare sulle cene eleganti ad Arcore, cui Barbara Guerra era spesso invitata. Oltre a Tarantini sono imputati a Bari il fratello di Giampi, Claudio, Massimiliano Verdoscia, ex amico e socio di Tarantini, e Pierluigi Faraone. Secondo l'accusa, avrebbero organizzato un'associazione per delinquere per reclutare le giovani che dovevano intrattenersi con l'ex premier. L'obiettivo era fare in modo che Berlusconi intercedesse perché l'imprenditore barese ottenesse incarichi istituzionali e allacciasse rapporti affaristici con i vertici della protezione civile, con fin meccanica e con le società collegate. Associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative. E questa l'accusa nei confronti di otto persone arrestate a Taranto al termine di un'attività investigativa che ha permesso di deferire a vario titolo e in stato di libertà altre 139 persone. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata questa mattina dagli agenti della polizia stradale di Taranto. Le compagnie truffate sono 18 per un importo complessivo che supera i 2 milioni di euro. Tra i destinatari delle misure vi sono liberi professionisti, tra cui avvocati del foro di Taranto e figure specialistiche che operano all'interno dell'ospedale Tarantino Santissima Annunziata. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato da alcuni passanti sulla riva di una insenatura sul litorale di Ostuni, nella località turistica di Monticelli. Il corpo era riverso sui sassi a pancia in giù e presentava un'evidente frattura del cranio all'altezza della nuca. Da un primo esame il corpo potrebbe appartenere ad un uomo, anche se non sarà facile identificarlo, a causa della lunga permanenza in acqua. Di certo si trovava in mare da mesi e trasportato a riva dalle correnti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto alle operazioni di recupero.